Un ampio incendio ha colpito la notte scorsa la vallata ridosso del centro abitato di Santa Maria in Baro. A decine i residenti sono stati prudenzialmente evacuati per diverse ore fino all'alba. Le fiamme hanno attaccato e bruciato una casa rurale disabitata, mentre in altre circostanze il rogo ha lambito i giardini di alcune abitazioni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Lanciano che hanno operato fino a questa mattina per spegnere gli ultimi focolai dell'incendio divampato verso la mezzanotte. Le fiamme alimentate da un forte vento hanno attaccato e distrutto anche diversi ettari di terreno con arbusti ma anche uliveti. L'odore del fumo si avverte chiaramente anche a metà mattinata. Qui siamo in contrada fattore, un vallone che divide Mozzagrogna da Santa Maria in Baro. Qui verso la mezzanotte si sono sviluppate all'improvviso le fiamme sospinte dal forte Libeccio, dal Garbino come è noto il forte vento che spira da ovest e si sono propagate cingendo le abitazioni. L'incendio è divampato a favore di vento possibile, un rogo che ha preso forza su sterpaglie non spente a dovere a causa di qualche incauto contadino. Una fortuna che il vento spirasse da ovest altrimenti le fiamme sarebbero arrivate nei pressi di Mozzagrogna ma qualche residente della zona sussurra di aver visto strani movimenti nella vallata proprio nel cuore della notte. La mente malata di qualche piromane non è esclusa nelle sue responsabilità. Grazie. Grazie. Grazie.